ci sono delle pessime novità per quanto concerne biggie e se sapete l'inglese lo potete leggere a schermo il combattente negli ude infatti ha condiviso con i fan il fatto che la sua vertebra c1 non stia guarendo nel modo ottimale lo ha scritto su twitter dicendo che sta passando sta per passare dalle quattro alle sei settimane ancora in una brace quindi con un supporto che lo terrà fermo che lo immobilizzerà il più possibile nella speranza di evitare una fusione delle vertebre aggiunge biggie ma non andate in panico sono circondato da persone che mi vogliono bene quindi ho un tremendus support system e what should be should be quindi e poi sarà quel che sarà se vi ricordate quello di cui avevamo parlato in precedenza diversi specialisti avevano indicato proprio in questa vertebra la c1 quella più pericolosa alcuni si erano detti anche stupiti che biggie non avesse riportato delle conseguenze irrecuperabili a livello di danni permanenti o addirittura di morte però come vedete è una zona estremamente complessa e che non si riassesta così rapidamente anche se non c'erano danni alla colonna vertebrale anche se non c'erano danni ai legamenti anche se apparentemente sembrava che il finire sotto i ferri lo si potesse evitare questi specialisti che ai tempi avevano parlato dicevano che in caso di operazione in quella zona il tornare al combattere o il tornare a praticare sport ad alto livello era assolutamente e altamente sconsigliato l'unica cosa buona bella piacevole eccola qua è un bel messaggio di coffee kinston che evidentemente è andato a trovare biggie e ha scritto questa è l'energia di cui avevo bisogno è stato molto bello rivedere il mio bro quindi slang visto che sono molto legati da una profonda e vera amicizia e poi lotus che se non sbaglio in realtà sembra un nome maschile ma è femminile quindi l'ultimo genita di coffee quindi finalmente lotus ha potuto incontrare suo zio è uno zio acquisito ma cista quindi speriamo dunque che questo meeting abbia ulteriormente robustito il buon umore di biggie perché avrà bisogno avrà bisogno di tutta la tenacia e di tutta la determinazione di questo mondo per affrontare un futuro un futuro che ora sembra sembra molto incerto e molto più scuro rispetto al mese di marzo quando invece giravano delle notizie più ottimistiche al riguardo di un suo teorico e possibile recupero noi ovviamente facciamo il tifo per lui incrociamo le dita e spero davvero di leggere anche fra qualche settimana o qualche mese un report maggiormente speranzoso da poter condividere con tutti voi